Ogni volta che spendi senza necessità stai sacrificando il tuo futuro soltanto per una gratificazione momentanea. Non lasciare che l'insicurezza, la noia, lo stress, la tristezza ti spingano verso scelte dannose. Invece di cercare la gratificazione nell'acquisto di oggetti superficiali. Concentrati sulla soluzione, concentrati sulla costruzione del tuo futuro, di un futuro solido. Investi nella tua crescita personale e professionale. La vera forza deriva dalla capacità di prendere decisioni consapevoli, non automatiche. Non hai bisogno di un guardaroba infinito per sentirti completo. Ciò di cui hai bisogno è il coraggio di rinunciare al superfluo e l'audacia di perseguire i tuoi obiettivi con determinazione. Prendi questa sfida come un' opportunità per crescere, per diventare ancora più forte. Ogni giorno puoi prendere delle decisioni per creare stabilità e per costruire la tua sicurezza personale. Tu sei il maestro del tuo destino. Prendi il comando e naviga verso l'obiettivo che tu hai scelto. Ricordatelo.